E' riuscita a far valere i propri diritti una famiglia modicana residente incontrata Musebbi che aveva denunciato i disservizi subiti sulla propria linea di telefonia fissa e sulla rete internet. Gli utenti in questione erano stati costretti loro malgrado ad un lungo isolamento a causa del mancato intervento manutentivo dell'operatore telefonico, nonostante i vari reclami inoltrati. Il giudice di pace ha quindi condannato il gestore telefonico a risarcire i danni subiti dalla famiglia per i gravi disservizi causati. A rendere preoccupante il problema è il fatto che in base alle lamentele raccolte non si tratta dell'unica zona diacente alla città interessata da continui guasti relative alla rete telematica ormai obsoleta. La sua consum in relazione alle molteplici segnalazioni pervenute dai cittadini del comprensorio ha diffidato la compagnia telefonica a porre in essere tutti gli interventi necessari per assicurare un servizio efficiente e rispondente alla necessità degli utenti che peraltro pagano regolarmente i canoni mensili per un servizio non reso dal gestore come previsto dal contratto stipulato tra le parti. Come testimoniato dalla sentenza del giudice di pace che ha condannato il gestore di telefonia a risarcire la famiglia modicana che ha patito i disservizi, gli utenti possono dunque avviare la procedura di reclamo cui le varie compagnie telefoniche sono obbligate a rispondere e soprattutto possono ottenere il giusto risarcimento in relazione ai disservizi patiti. Per ulteriori informazioni ed assistenza si può contattare a Soconsum Ragusa all'indirizzo e-mail a Soconsum Ragusa Modica a chiocciolagmail.com All'indirizzo e-mail a Soconsum Ragusa Grazie Grazie a tutti.